stiamo venendo nelle vostre case questo è il campeggio di jason era questo? si chissà se magari per halloween c'è qualcosa di nuovo allora prendiamo la torcia allora nel parcheggio ci sono tre macchine ve lo dico ah si? allora chi ha preso le mf? no io no allora lo prendo io che ho capito perfettamente come funziona e poi la telecamera qualcuno prende il dos lo prendo io ma non ho la torcia io ve lo dico ah ok in questa location così vasta lei non prende la torcia? no sono sprezzante del pericolo ad Halloween piove sempre al camping avete portato l'ombrello? no no noi siamo sprezzanti scusate dov'è il generatore di emergenza? qua è un casino trovarlo dobbiamo girare un po' non me lo ricordo mi sa che sta da sti pizzi mi raccomando chiudete le tende si per cortesia perché se no non si capisce dov'è il fantasma è inutile che mi prendi in giro lei sa? no no chi ha lasciato questa tenda aperta? cominciamo io sto andando a casaccio così vedrete io li sto venendo dietro ah ok perfetto perché vedrete che quando mi inseguirà il fantasma io non saprò come ritornare al furgone anche volendo uh c'è l'osso fotografi fotografi non ce l'ha la macchina fotografica ce l'ho io ce l'ho io dove è? arrivo ah ok ah ce l'hai? ah ok perfetto una mandibola lei è veramente efficiente sa? dove va? che lì siamo di noi venga un po' venga di qua no 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 non mi permetterei mai quello se vuole se lo dice da solo qualcuno ha aperto una tenda si può avere un po' di luce? ho trovato il generatore così andando a caso ho trovato il generatore e dov'è? dove è? ma non sta vicino ai cessi ai gabi cessi sta vicino a dove si va sul al lago sul molo andiamo a far vedere dove si va sul molo a a trovare Jason andiamo a far vedere dove è Jason? di qua vediamo se c'è ancora sono Jason cosa volete? non vi vedo da qua mi lasciate solo da qua ma dove sei Anna? sei andata da un'altra parte non posso passare eh no devi fare il giro devi fare il giro wow si si ed è anche emerso così lentamente fantastico se lo facessi c'è Jason e ho acceso anche la luce va che bello c'è Jason venite si si c'è c'è oh Deo io me do me do dammi se magari ti puoi anche sedere sulla sedia non lo so qua fai guardi il panorama oh Deo c'è la maschera non mi spingete in acqua per cortesia fate vedere ma perché si mette davanti volevo spingerla oh ma cosa spinge che pericoloso dove è? qua qua venga venga qua non sento niente si prende la biretta la biretta molto bella ti hai visto? ma l'avevamo già vista però io non mi ricordo ma come era la particolarità era la particolarità di questa location e vabbè si lo scomerta io ma sento dei passi sento dei passi ragazzi la ma questo che ho in mano io è l'MF siete sicuri? qui dice il meteo meteo io non lo so meteo dice meter ho sentito? nel bagno dove dove? c'è qualcosa nel bagno? no perché non chiude le tende lei? chiude questa tenda ecco chi è che non chiude le tende accendete io non ne ho aperta manco mezza accendete una luce eh ci stanno le luci questa tenda qui l'ha chiusa? qua non c'è niente io so stendere vai di solito sei vicino alla chitarra sei qua? non so se mi siete resi con tu che ha chiuso il cancello ah ha chiuso il cancello io me do ciao andiamo corriamo dove? dove? via via ma davvero? e non ha fatto niente ha solo chiuso il cancello e basta eh sì ma lei che è l'ombra? eh io non ho sentito nulla ma di nuovo ma c'è stata pochissima attività vediamo la sanità mentale eh la sanità è scesa non avete qualche ma lì vedo una tenda aperta l'hai lasciata voi? aperta? no le pilloline no non abbiamo lasciato la tenda aperta non le abbiamo sbloccate le pilloline comunque non c'è temperatura io potrei entrare con la cosa come si chiamava? è un quello per parlare con i fantasmi la spirit box ecco spirit box eggi lei va eh non abbiamo neanche una prova adesso è pericoloso entrare perché abbiamo la sanità bassa però possiamo solo tornare dentro non abbiamo fatto niente se la tenda rossa l'avete chiusa cioè se non siete voi che l'avete lasciata aperta e avete una telecamera io ho il dots mettiamo un attimo ah pure questa gialla è aperta però ma chi l'ha lasciata aperta? sento cantare? eh sì aspetta che provo a prendere di nuovo il microfono il coro dello zecchino no perché poi si sento? uh aperto ha aperto qualcosa in bagno in bagno? sta andando sì sta andando la vabbè ma se deve andare al bagno lasciamolo andare al bagno lasciamolo andare certo però intanto questa pure è aperta ma dove è il bagno? era qua ma Demb perché non chiudi se dende? e forse perché tu mi chiudi dentro io? stai spaventando ecco è qua ecco è qua e magari magari intanto mi faccio una doccetta sì vadi vadi magari è qua dentro alla fine aspetta che cambio vediamo ma dove esce l'acqua? credo da una delle docce allora con il dozzo non si vede una cippa io piazzo il libro così io proverei a metterla qua ma secondo me non sta nel gabicesso right on the book mi ha preso la videocamera? io no l'ho messa io qua davanti al dove? al gabicesso allora aspetta l'ho messa lì metti il dots magari puntato proviamo a vedere ma siete sicuri che sta qui? no non credo però è l'unico l'unico indizio che abbiamo avuto è stata la doccia aperta questa torcia averla o non averla è la stessa identica cosa posso dire? eh questo è un problema ma dove c'è? siamo qua qua allora qui c'è l'MF allora che ho buttato a terra perché non boh non dice niente allora io prenderei questo andiamo a vedere un attimo ma dov'è? ma perché non vedo mai? scusa affacciati affacciati di nuovo l'enna affacciati aspetta eh no no volevo che ti sporgevi a cercare qualcosa ah perché si vedeva la capoccia di fuori no adesso sei compenitato allora dai vediamo un po' se muove qualcosa ma non credo non credo neanch'io spegnete perché probabilmente non è lì attenzione ho visto qualcosa? ah no è pioggia pronto chi è che cos'è il timido? è l'ombro ah dobbiamo anche mettere il sensore di movimento ma l'avete messo? no io non l'ho preso ma uno solo ce n'abbiamo? eh mi sa andiamo a prenderne un altro risponde a non ne siamo sicuri ok io mi prendo il sensore vogliamo andare vogliamo andare a provare a metterlo ma al bagno io non credo che Ed come si chiama? Edward Ed è sempre lui puoi sempre chiamarlo Eddie Ed allora questa tenda è aperta ragazzi l'avete aperta voi? l'avete lasciata aperta io non ho aperto nessuna tenda io non tocco tende eh non ho mai toccato una tenda in vita mia vediamo se ci sono impronte non mi pare è stato dev? si si ma fai qualcosa fantastica de me ma io dovrei mettere l'ombre via prima che ci sciotta tanto finirà che ci sciotta sicuro sì a me è sicuro allora in questo è stato qua però il gabbicesso acqua acqua ma solo due volte si può mettere il sale sì eh sì hanno cambiato anche questa cosa vabbè dov'è il cesso? qua qua non non ci sono impronte di nessun genere ha scritto oh ha aperto di nuovo l'acqua l'ha aperta lui allora ed ed vedi che qualcosa qualcosa la fa eh se apre l'acqua porca misura e il libro dov'è che stava là? lo ho messo qua perché non ha scritto però non esce dal dal gabbicesso? no mi so che rimane lì dentro aspetta allora spostiamo questa eh però ha aperto l'acqua di nuovo anzi no forse c'è qua perché è l'emf è aperto l'acqua un'altra volta non ho mai si sposta che ho preso? uh shampoo non è che è il vretto no eh ma ci avrebbe già ammazzato il sale dove l'hai messo Deb? qui dove c'è l'innovazione uh è arrivato eccolo qua eccolo qua aiuto mi sta inseguendo ma dove? non lo so però l'ho sentito eccolo eccolo morcacci dove vado? eccolo no ma ho preso a me no è strano pensavo ce l'avesse con me non so dove andare damosi di qua Len damosi ma dove? di qua non so neanche dove siamo sbrigati oddio sobra tipo di me perché c'è un'impronta? aiuto mortacci stracci ancora aiuto no questo sono io ah ecco dai io gli ho fatto le foto eh ma se non sono venute manco a sorgire mi incacchio eh io ho fatto gli screenshot perché non avevo la macchina la macchina non abbiamo neanche fatto il sensore di movimento niente vabbè ma allora non stava nel gabbicesso scusa eh da lì è partito però eh perché da lì ha cominciato a inseguirmi dovete vendicarmi dovete vendicarmi chi te vendica? con 24 di sanità mentale di sanità eh io a questo punto metterei l'ombra è l'unica eh ma sia senza prove non ha fatto assolutamente niente fino adesso voi dite? eh non ha fatto nulla cioè non c'è proprio niente su cui lavorare senza prove era meglio che andavamo a casa del 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 signor eh scusa cioè glielo avevo detto eh avete messo tutti l'ombra e il sedamo? io non rientro io ho messo lo spirito va bene così va da cazzo va bene vado? va bene ma buh si è capito il mimo no vabbè eh il mimo che imita l'ombra tacci sua e vabbè